Dopo le polemiche nate nel recente passato sulla liberazione di Trieste e la storia che l'ha riguardata, un episodio avvenuto nei giorni scorsi torna a smuovere la coscienza di alcune persone particolarmente sensibili. Il riferimento è alla manifestazione del 18 settembre, giornata in cui in Piazza Unità è andato in scena un evento per dire no al razzismo in occasione dell'anniversario della promulgazione delle leggi razziali avvenute proprio in Piazza Unità d'Italia da parte di Mussolini. La polemica nasce dal fatto che una delle manifestanti presenti il 18 settembre è la stessa che nel novembre dello scorso anno esordì con una frase che indicava come Jugoslavi i liberatori di Trieste. La polemica non è mancata. In una manifestazione che è stata indetta contro il razzismo, per l'amore del cielo, è assolutamente legittima, è stata invitata a parlare una persona che pubblicamente un anno fa ha avuto modo di dire che Trieste è stata liberata dai titini. Se non è razzismo all'incontrario a questo non si capisce che cosa sia. Questa manifestazione è stata promossa dal Comune di Trieste, quindi il Comune in prima persona ha collaborato all'organizzazione di questa manifestazione e che a una manifestazione organizzata dal Comune di Trieste parli una persona che inneggia ai titini mi sembra l'ennesima gaffe su questo argomento molto delicato e molto triste che va a offendere la memoria della città.